C'è una legge regionale che permette oggi gare cinofile, addestramento di cani all'interno di parchi e di aree protette. Voi oggi protestate e chiedete alla regione un passo indietro. Sì, questa legge arrega notevole disturbo alla fauna in un periodo, diciamo, durante quei mesi che sono esclusi dal calendario venatorio. Quindi c'è un disturbo, diciamo, perenne alla fauna. Per quello che riguarda la fauna protetta, in particolare l'orso marsicano, questo disturbo si andrebbe a verificare in quelle aree come le riserve regionali, il parco regionale Sirente e Velino, che sono indicate come aree di espansione della specie. La specie sta gradualmente ricolonizzando i territori storici e attraverso questo processo di ricolonizzazione noi riponiamo le speranze per la sopravvivenza dell'orso marsicano. Quindi una regione che si freggia dell'orso come simbolo e poi di fatto lavora contro l'orso e contro il patom, che è un piano d'azione che prevede la tutela dell'orso e soprattutto di queste aree periferiche, ma anche vitali proprio per la specie. È una legge del poco incivile, che è un emendamento infilato di soppiatto in una legge che parlava di tutt'altro e che è totalmente incompatibile con tutte le norme, sia nazionali, sia regionali, sia europee, che riguardano la tutela dell'area protetta e della fauna in particolare. Crea un disturbo assolutamente insostenibile, è un danno diretto di distruzione della riproduzione di molti animali tutelati a livello europeo, per cui l'Italia ha un preciso obbligo comunitario di tutelarli e di evitare ogni forma di disturbo a questi animali. Se questo non è disturbo io vorrei chiedere alla regione che cos'è il disturbo allora. Grazie 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 Grazie